Arrivano in Comune diverse telefonate, soprattutto dai cittadini che si recono a fare la spesa in questo periodo da coronavirus, in particolare sulle norme da seguire all'interno dei pubblici esercizi e dei centri commerciali. Ci sono delle norme che il Comune ha stabilito? Non abbiamo regolamentato questo perché ci siamo affidati intanto ai titolari degli esercizi pubblici aperti e al buon senso, al buon senso dei titolari, al buon senso soprattutto dei cittadini che si recano presso i negozi. Quindi ai cittadini raccomandiamo, soprattutto quando si entra in un negozio di generi alimentari, di indossare un paio di guanti e una mascherina possibilmente. Se non si ha la mascherina va bene anche un foulard per coprire il naso e la bocca. È necessario per non solo proteggersi ma anche per tutelare gli altri. Quindi pensate alle persone che lavorano nelle attività commerciali. Stanno lavorando, loro non sono chiuse in casa e quindi è importante anche proteggere loro. Una raccomandazione va fatta agli esercenti. Devo dire che a San Salvo i titolari di alcune attività già lo fanno. Forniscono sia la mascherina che i guanti. Non è obbligatorio, per cui io mi raccomando soprattutto al buon senso dei cittadini di indossare guanti e coprirsi naso e bocca quando si va in un negozio di generi alimentari. È importantissimo. E la regolamentazione all'esterno la stanno facendo quasi tutti gli esercenti attraverso delle guardie giurate. Ed è un compito loro evitare appunto gli assembramenti. Siamo intervenuti anche come Polizia Municipale. Ma insomma credo che in questa situazione dovremmo tutti metterci del nostro. Per contenere il contagio già dalle ultime due settimane ha emesso un'ordinanza con la chiusura delle attività. Tranne le farmacie o i tabacchini per fare un esempio. Un modo per contenere ulteriormente il contagio. Deve essere chiara una cosa. Non siamo usciti dall'emergenza. Purtroppo l'emergenza è ancora in corso. In alcune regioni si registrano dati incoraggianti. In Abruzzo ieri il numero dei nuovi contagi è aumentato di nuovo. Di certo non siamo fuori dall'emergenza. Io vi chiedo, cittadini, e quasi vi obbligo, perché la legge ammette un obbligo su questo, di non uscire se non siete strettamente obbligati a farlo. Perché uscire di casa significa vanificare lo sforzo di tutti. E se non interessa a ciascuno di noi della propria salute, vi chiedo di mettermi nei panni di chi è stato costretto in questo mese ad uscire per tutelare la nostra di salute. Allora, se non vogliamo vanificare lo sforzo di quanti, peraltro sono stati anche contagiati dal Covid-19, vi chiedo di pazientare e di avere l'intelligenza, come ripeto sempre, di capire che sono misure per il nostro bene. Sono misure necessarie ad evitare il contagio, perché il contagio porta a un altro problema. Più si diffonde, più il virus cambia geneticamente. Quindi significa che vanifichiamo anche gli sforzi scientifici, in questo senso, volte alla ricerca di un vaccino. Quindi è importante, soprattutto in questa settimana, dove sembrerà esserci il sole e andiamo incontro alle festività pasquali, rispettare l'obbligo di isolamento. Cioè usciamo solo se è veramente necessario. La spesa non va fatta tutti i giorni, la spesa va fatta una volta a settimana. Se riuscite utilizzato il servizio a domicilio, non bisogna riempire le strade, assolutamente, significa vanificare tutto, e non ne usciremo più di questo passo. Quindi la Polizia Municipale sarà inflessibile. Ho chiesto anche ai carabinieri, alla Polizia e alle altre forze, di rinforzare ancora di più i controlli, e a loro va il mio grazie personale e come sindaco per tutto quello che hanno fatto, perché adesso è un momento cruciale. Chi ha intelligenza e a cuore lo usi, perché non possiamo permetterci di sbagliare. Fino al 13 dobbiamo tutti, con convinzione, con intelligenza e anche con un po' di orgoglio, rispettare le misure di isolamento. Grazie.